Domenica 2 ottobre ad Albano nella vicina provincia di Bergamo si è recuperato il trofeo BM Color, trofeo fornerie milesi, settimo Memorial Dalline Belotti che avrebbe dovuto svolgersi il 31 luglio ma a causa del maltempo è stato appunto rimandato a questa data Ovviamente la prima categoria in gara è la G1 con due giri in programma per questi piccoli atleti che tra poco termineranno la loro fatica e se una voce sola si sente poco insieme a tante altre diventa un coro E sotto lo strisciolo d'arrivo si presenta a tutto solo Luca Ferrari che precede Luca Bertola e Mirko Nembrini Non è importante se non siamo grandi come le montagne, come le montagne Quello che costa è stare tutti insieme per aiutare chi non ce la fa Ecco la classifica al quinto posto Alana Soni dell'Albano Quarto Luca Scotellaro dell'Almendo Terzo Mirko Nembrini della Gazza Nughese così come la secondo Luca Bertola Vincitore Luca Ferrari dell'Ozio Sotto Tra le bambine terzo posto per Elena Apostu della Bolgare Seconda Viola Barbieri dell'Ozio Sotto e vincitrice Valentina Ravelli della Villongo Comincia da mattone, dal niente nasce niente, questo sì Non è importante se non siamo grandi come le montagne, come le montagne